Autostrada per Avola, l'increscenza di un quarantenne che si posta a 270 km all'ora, sanzione e revisione patente. Un quarantenne multato e segnalato per la revisione della patente di guida per aver superato i limiti di velocità postando poi tale condotta sui social. Filmarsi mentre si guida è un fenomeno preoccupante che si sta diffondendo sempre di più e a registrare l'aumento significativo delle condotte di guida pericolose sono gli operatori della Polizia Stradale che nell'ambito dell'attività di verifica e repressione delle violazioni comportamentali e in particolare sulle azioni di contrasto agli episodi di guida pericolose hanno constatato il moltiplicarsi di episodi di guida con manovre azzardate spesso motivate dal desiderio di effettuare prudezze spettacolari da documentare con il proprio cellulare per poi postarle sui social media. L'esibizionismo sui social è arrivato al culmine sull'autostrada a 18 nel tratto compreso tra lo svincolo di Siracusa e quello di Avola da parte di un quarantenne siracusano che con il proprio comportamento ha messo in pericolo se stesso e gli altri utenti della strada sfirando per parecchi chilometri 270 km orari e filmando ripetutamente tachimetro strada e pubblicando poi il video sui canali social. Conducente non ha però considerato che la velocità massima in quel tratto autostradale è di 80 km orari. Detta accelerata condotta non è però passata inosservata agli agenti della Polizia Stradale che attraverso la visione sui vari profili social sono riusciti a identificare il quarantenne al quale sono state poi contestate le sanzioni amministrative pecuniarie previste oltre alla segnalazione alla Prefettura per la revisione della patente di guida.